Ciao a tutti e bentornati in questo nuovissimo video, divertente in un certo senso signori, anzi meriterebbe veramente un bel pollicione in su, così facciamo anche da supporto al canale. Allora, fatto incredibile, incredibile che è successo in un matrimonio di una coppia, non una coppia VIP ma una coppia, che ha ricevuto una bella sorpresa. Insomma, ve la racconto dall'inizio. James e Nicky Road Knight hanno deciso di convolare a nozze ed ecco che ha spuntato inaspettatamente un VIP al loro evento più importante della vita. Nessuno poteva aspettarsi che quel sogno nel cassetto potesse veramente tramutarsi in realtà, invece è successo per davvero. Ovviamente le foto hanno fatto immediatamente il giro del web, anzi in tanti, sono stati tanti 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 invidiosi che hanno visto e hanno quasi rosicato per quanto potesse essere veramente bella questa cosa che è successo. Comunque, si sono giurati amore eterno e alle loro nozze è apparso questo personaggio VIP. Loro per scherzo, in pratica, avevano deciso di invitare questo VIP alla cerimonia, ma era stato semplicemente un gesto fatto così, per gioco. Invece lui ha ricevuto questo invito e si è palesato davanti agli sposi, generando sorpresa generale e commozione, oltre che ovviamente a una gioia smisurata. Tutti i familiari e gli amici della coppia non sono riusciti a dire nulla, perché totalmente incantati da quel momento storico, nessuno si sarebbe mai pensato che potesse veramente succedere. James e Nicky sono dei fan scatenati di lui e avevano anche saputo che avrebbe soggiornato nello stesso hotel, quindi ecco perché intenti a fare quella specie di invito, insomma. Il VIP è stato invitato al matrimonio e si è presentato veramente. Questa è stata la reazione della donna. Non sapevamo se l'avrebbe fatto o meno, ma è stato bello che mio marito sia riuscito a parlargli. Lui è stato molto amorevole. Invece lui ha detto, lui è stato così gentile e amichevole che si è congratulato per il nostro matrimonio ed è stato veramente disponibile. Ha concesso alcune foto al nostro fotografo e poi si è addirittura dato del tempo per parlare con alcuni nostri ospiti e ha fatto anche delle foto con loro. Quindi, insomma, comportamento ottimale ovviamente. L'evento ha avuto luogo nel Northamptonshire in Inghilterra e i due sposi britannici sono apparsi molto entusiasti. Nelle foto che sono state diffuse in rete è dunque apparso l'attore Keanu Reeves, amato da entrambi, che si è scattato un'immagine con i due sposi e poi anche da solo con la neosposa. Una vera, diciamo, una vera gioia per tutti quanti. L'attore, 57enne, attualmente è famoso per essere stato protagonista nella tetralogia di Fantascienza Matrix, nonché per i film L'Avvocato del Diavolo, Ultimatum alla Terra e Point Break, ma soltanto per citarne alcuni. Da moltissime persone è ritenuto uno degli attori più affascinanti e sexy che esistono in tutto il mondo. E nel 2023, attenzione, perché per il nuovo anno comparirà nella pellicola John Wick 4 di Shad Stileski. Questo è tutto, signori, per questa meravigliosa notizia. Vi ringrazio per l'ascolto, è stato un piacere. Alla prossima!